Ad Altavilla Silentina i carabinieri del comando provinciale di Salerno e della compagnia di Eboli hanno tratto in arresto su ordine della magistratura un cinquantenne del posto ritenuto responsabile della morte di Sneyana Bunaclea. L'abbadante Moldava di 43 anni, rinvenuta lo scorso 5 marzo, priva di vita all'interno di una vasca da bagno nell'abitazione dove solo pochi mesi prima aveva trovato alloggio ed impiego per prendersi cura di un'anziana signora. L'uomo incensurato, figlio dell'anziana signora, è stato prelevato questa mattina dalle stesse mura ove gli inquirenti ritengono che per motivi passionali abbia ucciso la donna la scorsa primavera e dopo una breve sosta in caserma per le operazioni di foto o segnalamento è stato associato al carcere di Fuorni in applicazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Salerno che nei prossimi giorni lo convocherà per il primo interrogatorio. Il provvedimento si fonda sui gravi indizi di colpevolezza acquisiti dai militari dell'arma a conclusione di una serrata attività di indagine diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avviata lo stesso giorno del rinvenimento del cadavere della donna, la causa della cui morte a prima vista sembrava essere un malore. Insorti subito dei sospetti negli investigatori si sono indirizzati all'odierno arresto il quale poi si è scoperto per depistare le indagini aveva rappresentato come la vittima avesse problemi di salute ad avvalorare la tesi di una sua morte naturale. Nonostante ciò al fine di compiere i necessari accertamenti veniva immediatamente sottoposta a sequestro la parte dell'immobile in cui si era verificato il decesso e l'autorità giudiziaria disponeva esame autoptico sulla salma della giovane donna. Si è poi provveduto a separare i canali investigativi assegnando gli accertamenti tradizionali alle cure dell'arma locale in sinergia con il comando provinciale impegnato ad approfondire gli aspetti tecnici e di polizia scientifica. Preziosissima la relazione autoptica dei consulenti medico-legali i cui circostanziati elementi tecnici calati nel più ampio quadro delle indagini hanno dato maggiore concretezza all'ipotesi di un omicidio d'impeto avvenuto con movente di tipo passionale. La donna è stata raggiunta mentre si stava lavando dopo essere riuscito a sopraffarla. Cogliendola di sorpresa l'uomo l'avrebbe affogata tenendole schiacciata la testa sul fondo della vasca da bagno piena d'acqua. In seguito, sempre secondo quanto emerso dalle indagini, l'omicida si sarebbe reso conto di quanto accaduto e solo dopo aver alterato la scena del crimine per simulare un incidente avrebbe allertato i soccorsi. L'episodio si inquadra nell'ampio novero della violenza di genere, fenomeno criminale per lungo tempo rimasto sommerso, in relazione al quale negli ultimi anni vi è stata una progressiva presa di coscienza che ha portato all'adozione di nuove misure legislative volte a tutelare quelle che tecnicamente si definiscono le fasce deboli della società.